Buongiorno a tutti, buon mercoledì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Sembra che nel 2025 ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il sistema quote delle pensioni. Nelle ultime ore è emersa una notizia molto importante. Vediamo insieme di fare il punto della situazione. Nel video che segue, prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. Sembra un addio ormai consolidato, quello a quota 103 sembra essere in arrivo quota 41. A partire dall'inizio 2025 la possibilità di pensionamento flessibile non è più legata all'età di 62 anni e 41 anni di contributi, almeno secondo le ultime notizie. In futuro sarà quindi sufficiente accumulare solo 41 anni di contributi per poter andare in pensione, quindi indipendentemente dall'età che si raggiunge. Il lato negativo sarà sicuramente rappresentato dal fatto che il calcolo della pensione si baserà esclusivamente sul sistema contributivo che, come visto più volte nei nostri precedenti video, risulta essere meno vantaggioso. Questo elemento, insieme all'introduzione parziale della previdenza complementare per garantire pensioni più adeguate e tempestive per i giovani, porterà la principale novità per le pensioni nel 2025. Se dovesse arrivare quota 41 sarà la fine di quota 103 che ha avuto un impatto importante nella limitazione delle spese nel 2024. Dovrebbero essere invece confermati due strumenti che permettono uscite anticipate per determinate categorie, ovvero l'appe sociale, destinata a chi svolge lavori gravosi o si trova in particolari condizioni di difficoltà, e opzione donna che continuerà a essere operativa nel 2025, ma potrebbero arrivare, sempre secondo le ultime notizie, alcune limitazioni importanti su quest'ultima. Nel mentre la Lega spinge sempre di più su quota 41, Salvini ha dichiarato più volte che il governo sta lavorando per agevolare chi esausto e desidera tornare alla vita familiare. E sempre Durigon della Lega, che è un esperto di previdenza del partito, vede in quota 41 la soluzione ideale per realizzare questi obiettivi. È chiaro che la proposta della Lega, sostenuta da Salvini, dovrà per forza di cose fare i conti con le risorse limitate a disposizione del governo per il 2025. Se quota 41 fosse attuata senza modifiche, il costo sarebbe di circa 4 miliardi nel 2025, 9 miliardi all'anno a pieno regime, un importo molto alto per le casse dello Stato. E voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video. Grazie.